e oggi realizzerò la calamita dumbo diciamo che mi è stato anche questo mi chiesto diciamo come realizzi come fai quindi la realizzerò anche perché è molto semplice mi sono pari carevale il modello cartamodello ai tempi io ero partita da questa immagine come vedete voi visto che ho trovato su pinders mi era piaciuto molto però poi ho aggiunto gli occhietti come c'è normalmente ce li ha a dumbo e ho cambiato la proboscide se vedete perché non mi piaceva l'idea di creare un pezzo a parte ed incollarlo quindi ho fatto un tutt'uno ero partita dall'idea di fare un corpo unico come potete ben vedere questa la calamita quando l'ho fermato perché non approva da un corpo tutto unico quindi realizzare un corpo tutto unico e che dove andava ad inserire la imbottitura sola all'interno quindi poi ho messo cosa ho fatto ho chiuso qua con all'interno col cianocrilato prima tutto di cucire vedete qua ho bloccato un pochettino ai bordi sempre col cianocrilato ma come hai fatto e mi sono segnato tutti i punti quindi sono andata a mettere soltanto non guardate qua qui e le due parti sono attaccate quindi l'imbottitura è andata a finire solo qua dentro e poi ho messo perché giustamente viene l'orecchio e poi sopra diciamo la parte chiara dell'orecchio l'ho messo sopra ora deve essere singere l'effetto non mi è piaciuto tanto perché con quelli più grandi e riesce deve essere singere riesce meglio quindi non mi piaceva tanto l'effetto allora che cosa ho fatto ho creato invece di avere un fare un pezzo unico ho creato per farvi capire che una dietro al cartamodello ci un pochettino ci lavora diciamo un pochettino per non fare troppe ho creato prima la testa a parte e poi l'orecchio con la parte chiara quindi il rosello del del come si chiama dell'orecchio e dopo ho creato il corpicino infine il come si chiama il bavaglino quello che ha comunque intorno al collo e il cappellino vabbè quello già era comunque creato a parte e diciamo che l'effetto vedete mi piace molto molto di più per essere sincera molto molto di più di questo voi magari non ci fate caso però vedete mi piace molto più l'effetto di questo ora anche perché questo diciamo che è un pochettino più complicato perché bisogna stare attenti bisogna mettere il cernocrilato solo in questo punto farà aderire bene poi se invece si attacca un pochettino di più perché è piccolo perché è piccolo quindi magari poi va a stringere la guangia perciò ma al di là di questo proprio mi piace l'effetto che fa che avvolge le orecchie avvolgono il viso di Dumbo allora altre mi chiedevano ma come fai a fare le cose così precise rotonde perfette allora tutto sta nel copiare quindi questo diciamo che questo video sarà molto sul meno male che il diciamo è piccolo il lavoro sarà sul copiare il cartamodello sulla cartamodella il problema principale è quando dovete avete la fotocopia con un foglio normale quindi quello diciamo con grammatura molto leggera se avete problemi perché giustamente come si muove facilmente magari si raggrinza facilmente un fattolo su un come si chiama su un cartoncino su più spesso ora vi faccio vedere allora come potete vedere io ho qua un cartoncino un foglietto è un più spesso si vede che più più duro ma se voi avete problemi anche con questo che comunque certo si muoverà non è come fogliettino così è molto più spesso però se voi dovete avere problemi allora cosa fate comorate un cartoncino ancora più spesso prendete se non avete una lavagna luminosa un coperchio trasparente di qualsiasi contenitore io faccio così perché la lavagna luminosa non ce l'ho cosa faccio prendo la mia bella fotocopia realizzata dalla fotocopisteria o dal computer dal vostro stampante la ponete su questa diciamo coperchio trasparente mettete il cartoncino sopra mettete una fonte luminosa sotto che può essere una lampadina luce a led che non bruciano sembra una lampadina a led oppure la la torcia del del cellulare che abbastanza forte ecco lì non vi potete sbagliare poi il cellulare piatto ed entra all'interno del sotto il contenitore e ricalcate bene bene prendetevi il vostro tempo senza sbagliare bloccate anche il foglio con lo scotch ecco così non vi si muove bloccate sia questo che questo con lo scotch e ottenete un bel un bel foglietto dove non avrete problemi che si riuscirà a muovere ok quindi partiamo proprio dall'inizio quindi certo se andiamo a fare se andiamo a sbagliare già quando copiamo qua se poi andiamo a sbagliare il taglio è ovvio che poi dici ma come io avevo il cartamodello ma come mai non è venuto non dico uguale a quello della di barbara in questo caso di me ma è il problema sta tutto quando andiamo a copiare ritagliare anche il cartamodello quando andiamo appoggiare qua sulla gomma e ve lo andiamo a ricalcare e quando poi lo tagliamo quindi tutto sta alla base non è che poi viene male solo dopo perché non sappiamo cucci non sappiamo ingollare già si inizia dal principio allora facciamo quindi voi avete il vostro bel cartongino se avete comunque io ho fatto molta attività di ritaglio quando ero piccolo piccola era una che ritagliava dalla mattina la sera quindi sarà questo che voglio dire quindi vedete io qua ho aggiunto mi sono fatta la mia bella la mia bella proboscide quindi andiamo a ricalcare ho preso un foglio di gomma eva io vi consiglio grigio grigio chiaro perché il grigio scuro viene troppo scuro devo essere sincera troppo troppo scuro poi giustamente io l'ho fatto anche vedete siccome questo di qua era riproposto su pinterest eh celeste eh celeste diciamo facciamo la prova vediamo come viene celeste non è malissimo per carità però diciamo che vecchio grigio bello mi piace molto allora e lo andremo infatti a fare grigio vedete lo stuzzicadente però vi sto a dire il foglio è molto leggero quindi devo stare attenta anche a non vedete io rifaccio tutto il bordo tengo proprio con le dita ok anche perché se no le due parti non compaceranno per niente poi la proboscide vedete che piccolina si muove troppo andata ad utilizzare se non avete questa diciamo per mezza nel tenere il foglio dovete andarvi a fare un cartoggino più robusto ok dopo di che quindi vedete qua gli occhietti andiamo a fare il dietro come vedete voi io qua nel dietro sempre mettendo sulla vostra lavagnetta luminosa allora io ho ricalcato allora io ho ricalcato ricalcate gli occhietti scusate lo dovete fare qua perdonatemi siccome io me li creo poi da sola era di più per voi non me li creo mi vedo la mi misura il punto per non sbagliare quindi dietro andate a ricalcare se non me lo mettete così sulla vostra lavagnetta luminosa qua ci sarà la luce vi farà spondare gli occhietti e vi ricalcate i punti fondamentali che sono le sopracciglia prima che vi vengono magari troppo basse troppo alte quindi andate a ricalcare dopo di che dovete perdonarmi però essendo che io mi disegno a mano andate a fare prima di lasciare il disegno lo fate prima magari di passare perché lo tenete bene fate questo movimento qua ok voilà ci sono non li vedete però ci sono ci sono infatti sono qui e poi li passate con delicatamente con lo stuzzichino a voi interessa che l'altro è qui va bene a voi interessa semplicemente avere un pochettino di di disegno perciò fate piano piano e vi disegnate gli occhietti questo è per sempre per sapere dove perché magari uno viene alto uno viene basso uno ha come devo fare e qua verranno vabbè le sopracciglia che io non ho fatto ok allora quindi continuiamo e andiamo a fare l'altra parte vedete ok vedete io sono ancora all'epoca barbara con il treppiedi così che per guardare il cellulare vedete io mi fermo cioè alla fine non è che faccio tutto a girare a girare cioè se vedo che in base a come mi devo mettere le dita viene male mi blocco e ingomincio al contrario vedete io devo trovare la mia comodità ok ok sì per carità si può sbagliare di qualche millimetro tanto poi possiamo andare a sistemare ok e questo è fatto andiamo a fare il nostro corpicino il corpicino lo faremo qua ok ok quindi facciamo sempre prima il lato A e poi il retro ricordatevi quindi segnato o dietro o dietro e rovescio oppure A e B qualsiasi cosa voi vogliate mettere vi servirà per indicare che bisogna fare prima un lato e poi un altro lato perché se avete il mese on click senza A e senza B l'ho fatto o non l'ho fatto invece voi state guardando il lato A devo fare il lato B devo ricordare ho fatto il davanti devo fare il rovescio scusate poco fa ho detto dietro il rovescio sicuramente sicuro vedete? qua è la stessa cosa io non lo faccio vi dovevate prima di fare qua se volevate diciamo avere il contorno preciso ma qua non ci vuole niente a fare un cerchietto così per questo non l'ho fatto però chi volesse diciamo sapere i punti esatti farlo per bene di nuovo ricalca qui con la matita ho fatto una matita un pochettino più più decente ricalca qui e fa quella cosa di spolvero va bene? ora io ho fatto la devo fare la B il lato B e facciamo il lato B sempre guardate vedete come tengo con le dita vedete? ora qua mi viene un po' male e niente risalgo faccio il contrario non è un problema in base come vedete che poi tengo anche con questo comunque un foglietto veramente che basta un po' e si muove poi devo anche incidere non fortissimo ma con una certa forza perché si deve vedere non provate a farlo con le matite o altre cose perché poi avete problemi che se non tagliate non l'ho fatto non l'ho fatto c'è già mi viene poi difficile spiegarvelo non l'ho fatto né con patita né con penna come vedete anche se è una prova c'è una prova diciamo lo sto realizzando così per farlo vedere a voi viene la pena rovinarlo con la penna allora e queste diciamo il viso il corpo e facciamo l'orecchio la destra e una sinistra allora l'orecchio l'orecchio incominciamo vedete io quando posso in alcuni casi mi creo il cartamodello direttamente in Goveva sapete magari non mi è piaciuto dissi vabbè no no lo faccio lo faccio lo faccio doppio dico così me lo tengo vedete in Goveva si si muove pure ma non è la stessa cosa non è la stessa cosa è più anche se morbido ha l'effetto del come si chiama ecco potete ricrearvelo in Goveva vi durano anche se si bagnano non si asciugano un secondo invece il cartoncino dovesse bagnarsi dovesse certo potete farlo anche in Goveva ora andiamo a fare il lato B questa è la parte interna eh allora allora quindi abbiamo fatto lato A e lato B orecchio questo di qua ora andiamo a rifare di nuovo la stessa cosa per l'altro orecchio perché questo andrà qua dietro e formerà l'orecchio destro quando invece faremo quello questo andrà qua dietro e formerà l'orecchio sinistro ok quindi uno poi dovremo stare attenti di una formare l'orecchio destro e uno dovrà formare l'orecchio sinistro e come sempre guardate attentamente ok ok ecco come si fanno a farli precisi che poi precisi sapete non è che sono miss perfezione sbaglio pure io vedete ho fatto magari il contorno qua succede anche a me succede succede però poi sta nella nostra abilità andare un attimino ok mettiamoci a favore sempre la camera perfetto poi questo cartamodello voi lo potete ingrandire io cercherò si ce la faccio a fare un'unica foto quindi di tutti i pezzi in un'unica foto io vi metterò le misure di quello che ho fatto io però giustamente voi potete andarlo ad ingrandire come volete cioè lo potete fare anche di 20 di 10 di 15 come volete voi basta semplicemente ingrandire tutti i pezzi perché se ve lo metto uno a uno già è difficile diciamo riuscite ad ingrandirlo per la misura che vi do da qua qua e poi trovate difficoltà quindi ve lo metto tutto in una foto quindi di questo lo potete fare anche molto più grande va bene ok ok quindi andiamo al taglio togliamo tutte queste cotucce ah il taglio altra importante togliamo il taglio di qua e poi dobbiamo fare l'altra parte sarebbe bene questa e il cappello però adesso tagliamo questo che abbiamo diciamo creato e cominciamo vediamo se riusciamo a farci rientrare l'indanto ritagliamo tutti i pezzi perché non mi posso portare appresso tutto il il foglio di gomma perché mi verrebbe male quindi ritagliamo ok è perfetto e togliamo il nostro foglio poi andiamo a ritagliare quello che vogliamo fare quindi vi faccio vedere oh mi stavo portando ti faccio vedere un orecchio una parte della testa e una parte del corpo io normalmente per la tecnica 2D vi faccio vedere il taglio per questo non ce l'ha bisogno però sempre perché mi è stato chiesto ma come fai a fare le precise le cose quindi la mano destra o sinistra sinistra orse sta ferma questo è il taglio in dritto e si muove la mano sinistra vedete ok quindi non è che non si muove perché comunque taglia non si muove dal suo posto rimane ferma non è che la forbice non si muova si muove come perché comunque taglio ma è è come quando lavorate con la macchina da cucire che dovete spostare piano piano cioè l'ago rimane fermo no? quindi guardate ok ok io vado piano per farvi vedere quindi di nuovo ok e spostiamo vedete la lama poi non iniziate da qua non iniziate dal mezzo iniziate dal fondo perché se avete una forbice bella lunga come questa almeno avete vedete così vedete un taglio più lungo ma non solo ma anche se l'avete corta cioè vi verranno vedete vedete come viene masticato no non è quindi iniziate dal fondo piano piano girate piano piano così poi andate andate piano piano non tutta sta premura devo no comunque fate prove come vi ho detto nel nel video precedente delle lette fate le prove a questo punto con le lettere li mettete davanti le lettere vi fate una S vi fate una C vi fate una B vi fate una B vedete le fate piano piano ecco fate prima ricalcate poi il taglio e poi vedete come vi è riuscito al lavoro provate con con le lettere a fare tante ma tante perché andate a fare le prove su questi lavori è un peccato è un vero peccato quindi continuate oppure su qualsiasi altro lavoro importante prima che un pochettino magari una ci rimane male fate prove di copiatura su gomma eva e di taglio su io veramente ve lo consiglio a questo punto sulle lettere perché hanno tanti di quei movimenti con la la mano di giri di curve come la E la F la S stesso anche a livello di cucitura eh trovate mettete davanti un po' di lettere un font come questo che metterò poi sul mio sulla come si chiama la mia pagina che lo trovate su Pinterest quindi non c'è niente di che e se poi volete complicarvi la vita scegliete un fondo più particolareggiato e scegliete l'altezza della lettera che volete e andate copiatura e taglio copiatura e taglio vedete è la mano sinistra che si muove e non la mano destra della mano destra si muove solo la forbice che effetto è il taglio che se no ok questi ve li ho fatti vedere ora andiamo sempre io ho scelto un perché purtroppo i nomi non ci sono che compro dal cilese perciò quindi ho scelto questo questo rosa che è molto delicato perché il rosa confetto non si può parlare rosa pesca è molto delicato vedete ci sta benissimo proprio sembra il colore carne un po' più scuro ma sembra il colore carne vedete ok quindi vi faccio vedere qua l'ultima copertura vedete vedete scusate non è questo donateli mi sono un po' confusa mi sono un po' confusa facciamo un altro punto e questo di qua inoltre si assomiglia quindi ricalchiamo oh 24 minuti nell'altro video vi faccio vedere allora ricalchiamo qua ok ricalchiamo qua e ricalco qui va bene poi vi faccio vedere che faccio faccio il lato va bene a dopo